Da lunedì 16 novembre fino al 3 dicembre gli esercizi commerciali e artigianali, barbieri, parrucchieri e centri estetici, sospendono le loro attività alle 19. È il contenuto di una ordinanza firmata dal sindaco Michele Abbaticchio e condivisa con altri primi cittadini dell'area metropolitana, per provare a mettere in campo ulteriori misure stringenti vista questa seconda ondata di contagi. I commercianti dovranno riorganizzare la propria giornata lavorativa. Sento che ci hanno tagliato praticamente la voglia di espandere le nostre capacità perché l'orario è stato ridotto. Chi sta subendo più maggiormente questa crisi sono gli imprenditori. Gli imprenditori sono il centro, sono il fulcro. Se gli imprenditori vivono questa crisi in maniera negativa, il tutto si ripercuote anche sull'operaio. Un momento molto delicato che coinvolge lavoratori di ogni settore e che richiede sacrifici utili per evitare un lockdown totale, anche se alcuni commercianti la ritengono una possibile soluzione. Avrei preferito un lockdown totale, avrebbe aiutato penso di più, perché soprattutto per noi lavorativamente non aiuta affatto. Noi stiamo facendo degli incassi veramente ridicoli. Non sono d'accordo per il semplice fatto che la chiusura anticipata ce l'abbiamo alle 19, però comunque in giro abbiamo ancora il caos delle persone, quindi alla fine non ha un senso un'ora prima, un'ora dopo, però va bene lo stesso alla fine. Non sono né contro né a favore, io chiudevo già comunque a 19.30, massimo 20, alla fine ti gestisci con gli appuntamenti, ci si ritaglia anche del tempo per noi stessi. Grazie a tutti.